Buongiorno, io sono Fabrizio, sono al Parco Ulura di Saronno con la mia compagna, mia bimba e Ettore. Questa è la mia compagna e questo è Ettore. La Ettore l'ho acquistato un anno e mezzo fa perché mia figlia voleva il cane e subito dopo il cane ha insistito per il maialino. Mi sembrava un'idea un po' bizzarra, poi ho detto perché no. Allora Ettore ho deciso di prenderlo perché ho una casa con un piccolo giardino, quindi già prendendo il cane ho pensato di fargli compagnia con il maialino. Ettore, come vi dicevo, è molto amico dalla mia compagna che lo porta in giro anche ai centri commerciali o in giro per Saronno in città. Infatti la conoscono tutti come la ragazza del maialino. Andavo spesso con Ettore nel Saronno a fare un giretto in Corsa Italia e lo portavo quando era più piccolino al vinsaglio. Adesso oramai non gli sta più nessuna pettorina. Non gli sta più nessuna pettorina. E poi sono andata con lui al centro commerciale a fargli fare un giretto e niente. È stato bello per tutti. Tutti che volevano fargli la foto e ogni 3x2 mi fermavano perché volevano fargli la foto al maialino. E niente, è stato bello. Un giretto di mezz'ora ha durato tre ore. Ogni 3x2 c'era qualcuno che doveva fargli la foto. Un giretto di mezz'ora, un giretto di mezz'ora, un giretto di mezz'ora. Un giretto di mezz'ora, un giretto di mezz'ora, un giretto di mezz'ora. Un giretto di mezz'ora, un giretto di mezz'ora, un giretto di mezz'ora. 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 Un giretto di mezz'ora, un giretto di mezz'ora.